un cordiale saluto a tutti voi ben ritrovati sono le 7.30 siamo in diretta come tutte le mattine per dare un'occhiata ai giornali tra poco li vedremo con il nostro touchscreen adesso il santo del giorno la chiesa oggi ricorda san modesto il sole sorto le 6.53 tramonterà le 17.50 vediamo subito le previsioni del tempo per oggi oggi come vedete avremo cielo nuvoloso o molto nuvoloso le precipitazioni sono debole diffuse al mattino per poi diventare più insistenti nel corso del pomeriggio e assumere anche carattere di rovescio il limite della neve in graduale calo fino a 800 millimetri in serata le temperature stazionarie o in lieve aumento vediamo la giornata di domani mercoledì 25 febbraio avremo precipitazioni diffusa prevalente carattere di rovescio con cumulate moderate e localmente elevate a fine giornata il limite della neve sarà a intorno ai 700 metri in diminuzione le temperature in particolare nei valori massimi per quanto riguarda la giornata di giovedì giovedì 26 febbraio cielo inizialmente nuvoloso con attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio deboli precipitazioni diffuse localmente anche a carattere di rovescio localmente fenomeni in esaurimento nel pomeriggio le temperature senza variazioni di rilievo i venti nord orientali il mare sarà molto mosso la graduale rimonta dell'alta pressione determinerà un generale miglioramento per l'intero fine settimana adesso cominciamo a leggere i giornali il messaggero la pagina di fano si parla da ormai diversi giorni in particolare è una polemica che è venuta fuori dal da internet sul nostro sito internet occhialanotizia.it abbiamo pubblicato un comunicato il comunicato di un esponente della destra margherita campanella margherita campanella che ha raccontato di aver visto in via roma a fano una donna con il burca il burca lo vedete in questa fotografia anche se è un cerchio piccolo sono quelle donne completamente coperte da dal da un velo ecco margherita campanella ha gridato tra virgolette adesso sintetizzo lo ha definito un episodio agghiacciante a questo intervento però oggi rispondono anzi ieri hanno risposto le donne di sinistra che sostanzialmente si sono gettate contro la campanella appunto e in particolare Carla Luzzi e Sara Cucchiarini dicono che insomma alla politica tocca la gestione del buonsenso in generare sospetti provoca reazioni e non soluzioni. Poi la buona notizia ieri ve l'abbiamo data sul nostro telegiornale che riguarda quella bambina di 12 anni che è stata trasferita al Salesi di Ancona sabato con una sospetta meningite in realtà poi è emerso dalle analisi tutte negative per fortuna che non si tratta di meningite ma di streptococco quindi una cosa ben diversa che si cura si cura semplicemente con l'antibiotico insomma sospiro di sollievo per i genitori sospiro di sollievo naturalmente per le 50 persone che hanno si sono sottoposte alla profilassia antibiotica insomma e soprattutto per il fatto che è una bambina di 12 anni insomma ecco che comunque sta bene come scrive il giornale primo giorno senza febbre a causare l'infezione è stata una brutta sinusite ancora nessuna traccia dell'anziana scomparsa a Fano si è conclusa una nuova giornata di ricerche in mare ma non c'è segno dell'anziana fanese scomparsa dopo essere uscita di casa nella prima mattinata di sabato scorso con indosso solo la vestaglia e un paio di pantofole stiamo parlando di questa donna di più di 80 anni che abita nella zona a Lido di Fano una signora di 84 anni che aveva iniziato purtroppo a parlare di gesti estremi di suicidio pare che soffrisse un po di depressione ecco il porto canale è proprio lì a due passi a breve distanza dalla casa di questa donna sono state setacciate un po tutta la varia darsene insomma ecco però non c'è non c'è traccia poi a centro pagina dopo la mareggiata siamo stati lasciati soli residente delle brecce di via Ruggeri una delegazione di operatori balneari si è incontrata con l'assessore in municipio poi si decide il futuro dei cantieri navali fanesi nella giornata odierna un nuovo incontro sul destino dei cantieri fanesi in presa della zona industriale a Bellocchi che impiega 146 lavoratori e che sta attraversando un momento difficile poi fondale insabbiato così muore il porto il porto di Fano sta morendo da sfissia a causa del fondale insabbiato e per i grillini questa lenta agonia è il risultato di una politica insipiente cui avrebbero contribuito anche le amministrazioni fanesi e non solo la regione andiamo sulla pagina principale adesso del messaggero il grande centro al debutto alla convention di sabato anche Ciccanti e Malaspina l'assessore Viventi è una prepotenza primaria del PD Cericioli è finito un ciclo niente tasse alle nuove imprese per rilanciare le marche Leonardo dipinto Isabella d'Este l'avvocato oltre sei ore sotto torchio interrogatorio fiume per il legale indagato per i falsi per falsi incidenti più di sei ore è stato interrogato ieri pomeriggio in procura Sergio Schau il legale di Fano finito nel registro degli indagati per il caso del quadro di Isabella d'Este attribuito a Leonardo ma anche per un giro di incidenti falsi a danno delle compagnie assicurative la banca d'Italia taglia le sedi torna a rischio anche la filiale pesarese l'allarme è stato lanciato da CGL Cisle Will e Consal un grave danno per i lavoratori e per il territorio a Pesaro adesso c'è un'applicazione sempre per i telefoni per segnalare le buche ebbene si è scatenato su internet il popolo del web in sostanza criticano e dicono che è praticamente inutile questa applicazione anzi sa di presa in giro ci chiedono di segnalare le criticità ma potranno asfaltare appena 5 km di strada ancora dal messaggero il nuovo ospedale è solo sospeso l'assessore regionale alla sanità almerino mezzolani marcolini ha semplicemente detto che senza sito vengono meno le condizioni pesaro ora lo vuole a muraglia e fan ovviamente si oppone rimettere in discussione fosso sei ore è stato gravissimo secondo mezzolani altre piogge in arrivo gli imprenditori di via toscana pesaro sono in ansia l'argine del fiume foglia sotto l'interquartieri rischia di non tenere serve una manutenzione più profonda il mare d'inverno lo scritta di getto pensando a marotta enrico ruggeri rievoca il suo legame con il centro balneare a radio dj il cantautore ha raccontato le origini del successo della canzone apriamo il carlino la pagina di fano salviamo viale ruggeri il comitato le brecce chiede l'avvio dei lavori obiettivo destinare a quella zona i 3 milioni di euro primo incontro movimentato con l'amministrazione comunale secondo round il 9 di marzo sistema idrico investimenti per 10 milioni visita della presidente di aset lucia capodagli al depuratore e ancora sempre dal resto del carlino autodifesa fioccano le firme in 150 in poche ore aderiscono alla petizione alla raccolta firme l'iniziativa di fratelli d'italia n contro la micro criminalità bergoglio dice chi ha la possibilità deve poter reagire senza rischiare la galera anche qui sul caso burca niente paura parla carla luzzi di sinistra unita disposta autopsia invece per la morte di rinaldo tonucci che è stato stroncato da un infarto a 73 anni era stato direttore dell'ufficio acquedotto del comune di fano turismo turismo dei camper una risorsa da riorganizzare l'area di via kennedy camping sport fano chiede di potenziare i servizi parla paolo di otallevi che dice affiancare al terreno vicino al cimitero 70 parcheggi 30 anni di gaffe non sentirli nuova sigla e risate assicurate parliamo di teatro dialettale attesa per gli spettacoli di marzo per la ricorrenza e ancora sempre dal resto del carlino sentite questa storia una multa da 12 mila euro per un nome su una targhetta la denuncia è di claudio costanzo del cozzamara folle burocrazia è stato fatto un controllo un controllo approfondito appesano in questo ristorante che sta andando molto bene hanno verificato tutto racconta il titolare poi è emerso che manca il nome del responsabile delle immagini che video registriamo nel nostro locale ecco questo è l'etichetta che spesso si vede nei nelle vetrine questa vetrofania dove c'è il cartello area video sorvegliata lì ci deve essere scritto chi è responsabile delle immagini in realtà claudio costanzo non l'ha scritto è stato controllato dal nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri qualche giorno fa e insomma è venuto fuori che deve pagare 12 mila euro ancora dal corriere adriatico l'ultima pagina è quella di urbino montefeltro notte di razzia a sant'angelo invado i ladri espugnano anche il comune i malviventi infatti hanno messo a suo quadro gli uffici e hanno preso soltanto i soldi una notte agitata tra domenica e lunedì a sant'angelo invado con la cittadina metaurense vittima di un vero e proprio raid di furti chiudiamo con il corriere adriatico la pagina di pesaro addio a giulia e al sogno di fare il magistrato folle folla straziata al funerale la mamma ed il fratello davanti all'altare raccontano la sua anima coraggiosa vedete quante persone quanta gente la barra bianca la foto di questa ragazza di 17 anni che è morta l'altro giorno cadendo dal terrazzo il punto di primo soccorso a Fossombrone chiuderà all'evento il comitato pro ospedale rilancia il modello chiaravalle anche per Fossombrone e Marche Nord poi il prefetto di Pesaro Pizzi in visita alla guardia di finanza briefing sulla situazione economica e sulla sicurezza la pagina di Fano del corriere adriatico dragaggio al porto in campo anche sindacati la candidata alla regione di Movimento 5 Stelle a Coto addebita la responsabilità del governo ma anche alle giunte fanesi poi depuratore efficiente il mare protetto il maltempo non ha causato danni all'opera sarà collegato il nuovo collettore contro gli allagamenti l'impianto per raccogliere le acque di Viale Piceno in caso di eventi eccezionali scaricherà le acque nel fiume poi sotto strade insicure allarme al chiaruccia tante buche e niente strisce pedonali vertice tra istituzioni per curare invece il torrente Arzilla due misure prioritarie anti inquinamento paura per una bimba che ingoia due monetine la piccola di 24 mesi trasferita d'urgenza al Salesi l'estrazione è stata eseguita con le pinze la piccola è arrivata al pronto soccorso della Santa Croce con due corpi estranei che sono andati a dostruire l'esofago con un evidente malessere della bambina subito dopo il suo arrivo che è avvenuto intorno alle 20.30 all'ospedale di Fano i sanitari dopo aver valutato la situazione hanno disposto il trasferimento in ambulanza all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona poi ancora più sotto Ceriscioli sindaco delle Marche promette attenzione a Fano vedete la sala nervi piena l'altro giorno per questo incontro con il candidato alle primarie appunto Luca Ceriscioli poi San Paterniano ospiti discriminati la denuncia di alcuni cittadini Darpetti solo regole per proteggere la struttura la mensa è per tutti il dormitorio per pochi alcuni parrocchiani di San Paterniano fanno notare come non sempre tutti i richiedenti un posto letto all'opera Padre Pio di via Malvezzi vengano accolti ed ospitati per trascorrere la notte nonostante il dormitorio abbia ancora degli spazi liberi risponde Darpetti e dice siamo attenti alle condizioni di salute non possiamo rischiare che qualcuno porti delle malattie contagiose Senigallia multe per le squille per le squillo tre le persone tre i morosi il sollecito di pagamento arriverà direttamente a casa solo uno ha fatto ricorso praticamente nei mesi scorsi otto persone otto clienti sono stati sanzionati con una multa di 400 euro quindi neanche poco tra poco tra l'altro tra qualche settimana questa multa trasgredire costerà anche di più verrà aumentato di 100 euro quindi 500 euro per chi verrà pizzicato a contrattare il prezzo con le donne che offrono prestazioni sessuali sulla strada quindi a Senigallia stiamo parlando del territorio di Senigallia Montemarciano ebbene il comandante dei vigili urbani di Senigallia Montemarciano Flavio Brunaccioni ha detto che di questi otto clienti cinque hanno pagato entro i termini di legge mentre tre non lo hanno ancora fatto uno di loro come abbiamo già detto non pagherà sicuramente perché ha presentato ricorso la maggioranza ha comunque versato i 400 euro previsti per chi viene sorpreso per le strade cittadine la statale in particolare ma la notizia è che il sollecito di pagamento arriverà direttamente a casa e con questo è tutto ci fermiamo qui grazie per aver seguito Occhio e Giornali questa sera il TG alle 20 e 30 il nostro sito internet è sempre a vostra disposizione io vi auguro un buona giornata e ci vediamo domani arrivederci a